musica Allora ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovissimo video, oggi cosa andremo a fare? Un mio amico mi ha detto che mi ha trovato su un video Un mio amico mi ha detto che mi ha trovato su Akinator Mi ha mandato lo screen, io non ci credevo, ho detto vabbè l'ha photoshopato con le cagate l'applicazione Però ho detto, sai che c'è di nuovo? Non so che video fare, non tengo contenuti a fare Quindi ho bisogno di video, quindi ho detto, ah proviamo, può darsi che mi trovo Quindi andiamo a scoprire se esisto davvero su Akinator o no Prima domanda, il tuo personaggio è donna? Sembrerebbe di no Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a Youtube Ho scoperto, cazzo, l'America? Sì, in teoria Dove a Minecraft? Sì, un po' di video sul Minecraft Non ci ho fatto vedere in faccia Purtroppo i miei panni mi hanno visto in faccia Non mi sapevo quanto sono bellissimi Che schifo Ad averci là una ragazza Ho detto che sono le altre porte gli occhiali? No Che lo sappia Come? E' merci chiesi Non sono maschera protettiva? No Non ne ho bisogno Sono brutto anche senza maschera Il personaggio è appassionato di orologi? Mi sono napoletano Quindi sì, ovviamente E' spesso la palla con la mano E' poposo grazie a Minecraft No, per fortuna Anche Il personaggio è girato a video con una sorella Non una sorella Per fortuna Rob, no Faccia sempre il video con Fabergia Ovviamente Ha più di 19 anni? No Con cane? Voi non lo sapete Quindi dovreste mettere No, in teoria No No E' tipo il modo di Sì Non sono Capitan Blader Che cazzo è Risticman? E' un gioco è Risticman Che cazzo è? Ah, ok Ho capito Che cazzo è No No Non lo so Quella vive una Sì No E' piccolino Ma si riesce a intravedere Sotto la doccia Sì Ma sono uscito davvero Mettendo che canto baby Davvero Davvero Esco se metto che canto baby Siamo seri Siamo Fottutamente seri Che io canto baby E adesso Ehi Sì 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 Ci hanno diventato 39 volte Addirittura Mamma mia No aspetta Io dovrei Che cazzo E' per me Quindi Che dire ragazzi Era vero Sono Non so il motivo Che cazzo E' vero Sono Non so il motivo Non so perché Sono su Akinator Non posso andare a commentare Ehi Sono su Akinator Scusi Sono su Akinator Ok Ti rispetto Ok Distanza Ok Ok Lo so il motivo Ragazzi Sono Akinator Vi ringrazio Posso andarmi ad atteggiare Con una tecnica di emorco Dicene ragazzi Se la faccio Dai proprio Lo so Akinator Scusi Che attacca Non lo so Vabbè No ci vediamo Nel prossimo video Bello No 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 Grazie a tutti.